Una situazione critica soprattutto per gli utenti, per i pazienti che si trovano senza risposte da parte dell'Als. In un periodo in cui abbiamo protestato perché la sanità migliore, in questo caso addirittura sta peggiorando. Per questo motivo abbiamo già protocollato una richiesta di incontro con il direttore generale, il dottor Armando Mancini, dal quale ci aspettiamo risposte non soltanto formali ma anche concrete per poi riportarle ai nostri utenti e cittadini. Dall'altra parte abbiamo chiesto anche la convocazione di una commissione di vigilanza e garanzia al Comune di Pescara dove fare un punto di situazione per portare risposte formali a questa situazione davvero incresciosa. Alcuni test riferiti a test alimentari, test farmacologici o punture agli insetti non si possono più svolgere a Pescara perché il reparto è stato praticamente ridotto al lumicino. Logicamente è stato spostato in stanze che sembrano ripostiglio un magazzino e quindi pazienti di Pescara costretti ad andare fuori città o fuori regione aumentando la sanità passiva. Ho prenotato da agosto, quindi da mesi, il test all'allergia ai farmaci che mi era stato prenotato per la metà di gennaio. Due giorni prima il reparto mi chiama e mi dice che le attività sono bloccate. Io quindi mi è preclusa una grandissima parte di farmaci per reazioni avverse molto forte che le reazioni avverse sono anche letali, possono essere per una persona quindi qui le attività sono bloccate per un qualcosa di altamente specialistico che in pochissimi fanno. Per ogni malattia ho complicanze, non potendomi curare a dovere ho complicanze e tempi di degenza molto più lunghi. L'ultima influenza mi è durata un mese. È una situazione per noi pazienti insostenibile. So che ci sono persone che avevano prenotato da più di un anno.